Ok, gli obiettivi sono due questa volta. Proteggere il punto di atterraggio per gli allianti. Questo è per te, Sam è per Zano. Poi dobbiamo recuperare un rapporto da un certo Nick, vicino a una fattoria della Resistenza Olandese. È quella fattoria lì? Sì, quella. Andiamo io, Jasper e Connor. Ci portiamo dietro l'MG. Salite su! State con me! Sai, mio zio era fascista, ma non era il tipico strumento che si uscita ai bracciati. Sì, ma non ci sei. Sono Nicholas e cercherò di aiutarvi. Ho preparato una mappa. Non è molto, ma sono riuscito a trovare delle postazioni tedesche. Non c'è molto tempo. Ehi, parla bene inglese. Sì, un po'. Dobbiamo fare attenzione. Ci sono dei tedeschi oltre quel muro. Ora devo tornare da Peter. Mio figlio ha una gran voglia di andare a combattere. E se non torno in fretta, ho paura che lo farà davvero. Buona fortuna, Sargente. Baker, sono in posizione. Bersagni! Altri crocchi! Lancio una granata! Lancio una granata! Quello era l'ultimo! Eccomi! Baker, attento! Pace e tranquillità. Zitti e colpiamoli al fianco! Ci sono. E ora? In posizione! In posizione! Eccomi! Cosa c'è? Sta per cadere! Disparano addosso! Copritemi! Ricarico! Coperto! Coperto! Forza corti! Arrendetemi! Non potete muoversi! Sono vuoto! Ricevuto! Fai con calma! Armi cariche! Copritemi! Copritemi! Ricarico! Fammi sapere se sei a carico! Caricatori inseriti! Sono a secco! In mezzo! In mezzo! In mezzo! Becker! 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 Sono a secco! Ricarico! Va bene! Ehi! Forza! Sparate! Sparate! Abbiamo toccato i trucchi! Grazie a Dio è finita! Baker! Sono in posizione! Si muovono! Sento! Becker! Siamo bloccati! Baker! Sono in volo! Sono a scarico! Ok! Veloce! Pronti al fuoco! Baker! Si sta patendo! Sono a scarico! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Trova un riparo! Ciría! Carico! Ok! Ci provo! Il conseq! Ci conviene muoverci! Senti e colpiamoli al gioco! Sono bloccati! Ricarico! Ok, poco di soppressione! Senti e colpiamoli! Senti e colpiamoli! Senti e colpiamoli! Senti e colpiamoli! Ci sono! E ora? Uno di noi deve muoversi! Movimento! Sono sicuro qui, Becker! Becker, trovo un riparo! Si muovono! Dobbiamo tenerli indio dati! Attento, Becker! Un attimo, ricarico! Ricarico, fai con calma! Un altro croco è morto! Becker, attento! Becker, attento! Sono bloccati! Spassiamoli fuori! Cambiano posizione! E' andato! E' andato! Atento, Becker! Non preoccupatevi! Ne ho ancora! Fammi sapere se sei scarico! Sono sopravvissuto a un'altra battaglia! Sono qui! E' ora! E' ora? Sono qui!